Parliamo ora di un nuovo modello di formazione fortemente legato all'acquisizione di competenze in azienda. Lo stanno sperimentando le Marche grazie a un progetto pilota con 20 ragazzi, come ci racconta nel servizio Guido Maurino. Delle 10.000 assunzioni previste fra settembre e novembre dalle imprese marchigiane, oltre il 40% riguarda operai specializzati, in particolare nel comparto della meccanica, figure che in un caso su due sono considerate difficili da reclutare. Parte da dati come questi il progetto di formazione e lavoro VETBUS, cofinanziato dall'Unione Europea, che guarda il sistema duale tedesco per una forte integrazione fra scuola e impresa. Tanti gli enti coinvolti dalla Regione alla Camera di Commercio, passando per Confindustria e il Sindacato. La CISL è partner in un progetto di rete che ha un obiettivo per noi fondamentale, che è quello proprio dell'occupabilità dei nostri giovani, della lotta alla dispersione scolastica e di una connessione sempre più stretta e densa tra scuola, formazione e lavoro. L'imparare lavorando che può consentire a tanti giovani marchigiani di dare un senso proprio alla loro formazione professionale. Le esperienze di alternanza scuola-lavoro hanno faticato molto in questi anni. Questa volta però i soggetti coinvolti spiegano che si tratta di una cosa diversa. La differenza con la classica alternanza scuola-lavoro o apprendistato è che vengono perfettamente definite in un accordo iniziale le competenze che il ragazzo deve acquisire in contesto aziendale nel periodo di alternanza o di apprendistato. Lavoro nel reparto stampi dove ho imparato le programmazioni dei macchinari principali a controllo numerico come tornio, fresatrice, elettrorosione a filo. Grazie.